Prima di cominciare lascia un like, iscriviti e attiva la campanella E ti ricordo che tramite il supporto a creatore puoi supportarmi con il codice creatore TNTBarny nello shop di Fortnite Che dire Mi sento elegante Occhio ai Bardi perché c'è Johnny si dentro Si Non so No 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 Aspetta il libro è da Johnsy Ah si E' nella libreria proprio Boia Ci sono un po' sto accanto Non c'è un'armi qua dentro Se ti è piaciuto il video seguimi sui social, iscriviti qua su YouTube o guarda un altro video